Per noi la partita fondamentale è quella della prossima, però ci tengo a dire che non siamo mai partiti battuti, neanche giocando con le rubette, con il Cotto, non abbiamo vinto. Oggi noi eravamo entrati in campo per fare la nostra partita, però ci siamo tornati davanti un avversario che è molto più bravo di noi.